Una iniziativa davvero encomiabile, quella che vede coinvolte, vede partecipare le amministrazioni comunali di Leporano, di Pulsano e il mondo dell'associazionismo, il mondo del volontariato. Siamo in località Luogo Vivo, tra Pulsano e Leporano, in provincia di Taranto e, dicevo, si sta procedendo a ripulire la spiaggia, si sta cercando di bonificare questo tratto bellissimo della nostra litorania. Vedete, Taranto patisce i guasti infernali, i disastri ambientali dell'Ilva, ma grazie a Dio abbiamo il mare, abbiamo il sole, abbiamo una terra ospitale che tutta l'Italia ci invidia. La madre natura è stata molto generosa con noi e allora bisogna preservare il nostro territorio. Apprezziamo l'iniziativa di oggi perché tutte queste persone hanno avuto il coraggio di rimboccarsi le maniche, di sporcarsi le mani per rendere il territorio sempre più attrattivo. E allora partiamo da Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano. Una battuta finale, vorrei dire che con la condivisione in questo momento abbiamo fatto squadra insieme Leporano e Pulsano per un territorio più pulito e un ambiente da rispettare. Alessandra D'Alfonso, assessore del comune di Pulsano. Sì, come diceva lei prima, un territorio che è stato per fin troppo tempo martoriato. Le amministrazioni comunali di Pulsano e Leporano insieme questa mattina hanno voluto lanciare un messaggio importante, quello di valorizzare l'ambiente che ci circonda, il nostro bellissimo litorale. E allora facciamo sì che davvero questo sia lo spot degli spot per il nostro territorio, per promuovere la nostra litoranea. Urliamo, urliamo, lo sottolineo tutti insieme, litoranea pulita!